I carabinieri della compagnia di Acireale sono stati impegnati in un servizio di contrasto all'illegalità diffusa dei reati contro il patrimonio e delle condotte illecite alla guida nel centro e in corrispondenza dei principali snodi viari. Nel corso del servizio i carabinieri sono intervenuti presso un complesso di alloggi di edilizia popolare dove è stata segnalata l'intrusione di una donna in uno degli appartamenti. Giunti sul posto i militari hanno effettivamente trovato una donna che stava traslocando. E' stato accertato che la 34enne denunciata per danneggiamento e violazione di domicilio approfittando dell'assenza dell'anziano proprietario ricoverato in ospedale aveva danneggiato la porta d'ingresso principale e aveva trascinato fuori dall'abitazione alcuni mobili e masserizie dell'anziano con lo scopo di occupare l'immobile. Nell'ambito dei controlli alla circolazione stradale i militari dell'arma hanno denunciato per guida in stato di ebrezza un 25enne di Acireale sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico nel sangue superiore al consentito. All'esito delle diverse perquisizioni effettuate durante i controlli due giovani del posto sono stati trovati in possesso di piccole quantità di marijuana e sono stati pertanto segnalati quali assuntori alla locale prefettura. Al termine delle attività i carabinieri hanno identificato una sessantina di persone e sottoposto a controllo una trentina di veicoli sanzionando una decina di automobilisti indisciplinati per violazioni al codice della strada.